Grazie a tutti. Siamo all'evento Let's Keep In Touch, hai tenuto un bellissimo intervento su come il vostro gruppo si sia organizzato per fronteggiare al meglio una crescente domanda di prestazione da parte degli assicurati. Ci puoi raccontare e condividere anche con il nostro audience la vostra strategia? Grazie Marcella e ben trovata. Sì, in effetti GWM Care Research che opera in Europa con circa 50 strutture, di cui 35 in Italia su 12 regioni, vive una complessità particolare. Il nostro è un gruppo decentrato sul territorio nazionale e quindi affrontiamo dinamiche su 12 regioni diverse, 12 sistemi sanitari regionali diversi. La sanità integrativa, quindi l'attività privata che svolgiamo diventa sempre più significativa al punto che soluzioni tecnologiche strategiche, scorciatoie tecnologiche strategiche diventano per noi una necessità. Ci siamo quindi determinati ad avviare una progettualità con il gruppo Mary Designs adottando la suite Adrenaline che per noi sarà, stiamo già collaudandola, testandola, implementandola nelle prime strutture, lo strumento per riuscire ad affrontare e gestire questa crescita in maniera sostenibile. È veramente un passo quantico importante, un'opportunità di cui ci stiamo avvalendo e ci sta cominciando a dare un valore aggiunto veramente importante sia dal punto di vista della riduzione della facilità del processo da parte del paziente che dal punto di vista dell'azienda, quindi dei processi amministrativi che implementiamo in azienda, che rispetto all'attività svolta dai nostri partner medici. Quindi veramente una soluzione vincente e speriamo tra qualche mese di poter confermare l'avvenuta implementazione dell'intero processo e appunto quindi vi saprò dire anche a cose concluse. Ma per il momento è molto promettente, stiamo andando molto bene, siamo molto soddisfatti di questa progettualità che stiamo implementando. Bene, grazie, allora alla prossima. Sì, ma alla prossima.